segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te e do diciamo quegli aneddoti quelle frasi sue meravigliose vabbè poi lei mi risponde come vuole allora la prima foto le voglio far vedere lavrov a presente che lavrov quel signore che è stato intervistato da rete quattro ministro russo levra ha seguito tutte le polemiche cosa ci è venuto a fare lavrov a farsi intervistare in italia dalla televisione italiana ricordo che l'unica intervista che ha dato ad una televisione europea lui è venuto a fare i suoi affari questo questo va da sé dopo di che questo dibattito rispetto al quale lavrov è il caso estremo ma ne abbiamo uno tutti i giorni su questo punto andrà detto una parola chiara le democrazie vivono pericolosamente il concetto di censuro di pensiero unico è un altro simoro vicino alla parola democrazia allora qui c'è la nobile il nobile mestiere del giornalista il famoso quarto potere non scherziamo è vero che è un quarto potere per la democrazia il giornalista che fa la seconda domanda e che se c'è una palese fake news la contraddice prendendosi la responsabilità non si può prescindere da non c'è altra strada che questa se vogliamo essere una democrazia senza pensiero unico e senza censura non c'è altra strada che questa cioè il punto non è che i russi provino a fare la loro propaganda il punto è come tu gestisci quella propaganda mi sembra che questo sia il ragionamento di bersani si avendo anche fiducia di papa francesco aspetti aspetti perché anche su papa francesco voglio assolutamente la sua opinione ieri abbiamo letto lì